I miti, uno è Berlinguer, che non può essere toccato. Certamente era molto migliore di tutto ciò che è venuto dopo. La subalternità del Partito Comunista al paradigma economico comunque dominante è un fatto accertato, è un fatto storico. Non hanno mai pensato di saper fare qualcosa di diverso, hanno sempre solo preteso di saper fare meglio. A volte è stato vero, a volte no. Quando hanno capito, a volte lo hanno detto, c'è un famoso discorso di Napolitano che gliel'ha poi scritto spaventa sull'ingresso dell'Italia nello SME, lui l'ha capito, l'ha detto, è un modello deflattivo volto a distruggere il potere d'acquisto dei ceti medio-bassi e a punire severamente le organizzazioni dei lavoratori. Bravo, però poi è stata lettera morte, è caduto lì così. Anche perché bisogna dire che se mai Berlinguer avesse avuto un'idea di autonomia, non dico terza via perché non voglio offenderne la memoria fino a questo punto, gliel'hanno fatta passare molto in fretta. ammazzando Moro, che era l'unica sponda che c'era sul mercato e naturalmente con quell'uccisione la nostra fedeltà al modello atlantico e neoliberista è stata garantita per sempre. Ma penso che non ce ne sarebbe stato bisogno. È stata una vita sacrificata probabilmente inutilmente. non saremmo stati un grande pericolo per il capitalismo mondiale. Non volevamo esserlo, non potevamo. Le cose sono andate a finire come dovevano andare a finire. Ho letto l'altro giorno una intervista che aveva fatto Bernardo Bertolucci all'epoca raccontando quando era uscito il Novecento, che mi pare sia metà degli anni Settanta, all'incirca. E ha detto che in quel periodo aveva fatto un'approviezione per gli allora dirigenti del Partito Comunista, essendo un film abbastanza lungo di quattro ore, ha fatto vedere la prima parte, poi c'era stato tipo un piccolo dibattito così, era previsto così, poi la seconda parte ci doveva essere la seconda parte del dibattito. Finisce la prima parte che raccontava tutti i primi moti, tutti contenti. La seconda parte è finita a gelo e ha detto guarda è meglio che il dibattito lo saltiamo. Poi gli hanno spiegato che era, perché in quel film lì faceva vedere questa specie di processo maoista e questa cosa non era stata vista bene, perché gli hanno spiegato guarda che in questo periodo noi stiamo cercando di avere un'interazione con, diciamo, il padronato, chiamiamola così. E lui fa, all'epoca non compresi tanto bene, rivedendo la cosa anni dopo, ho capito. Ecco, quindi non è una domanda, però era solamente una cosa che mi aveva colpito che già a metà degli anni 70 c'era questo spirito, ecco, volevo solamente sottolineare questo. Vuole dire qualcosa? E' meglio che non la dica. E' meglio che non la dica, perché abbiamo dei miti, uno è Berlinguer, che non può essere toccato. Certamente era molto migliore di tutto ciò che è venuto dopo, ma la subalternità del Partito Comunista al paradigma economico comunque dominante è un fatto accertato, è un fatto storico. Non hanno mai pensato di saper fare qualche cosa di diverso, hanno sempre solo preteso di saper fare meglio. a volte è stato vero, a volte no. Quando hanno capito, a volte lo hanno detto, c'è un famoso discorso di Napolitano che gliel'ha poi scritto spaventa sull'ingresso dell'Italia nello SME, e lui l'ha capito, l'ha detto, è un modello deflattivo volto a distruggere il potere d'acquisto dei ceti medio-bassi e a punire severamente le organizzazioni dei lavoratori. Bravo, però poi è stata lettera morte, è caduto lì così, anche perché bisogna dire che se mai Berlinguer avesse avuto un'idea di autonomia, non dico terza via perché non voglio offenderne la memoria fino a questo punto, gliel'hanno fatta passare molto in fretta. ammazzando Moro, che era l'unica sponda che c'era sul mercato, e naturalmente con quell'uccisione la nostra fedeltà al modello atlantico e neoliberista è stata garantita per sempre, ma penso che non ce ne sarebbe stato bisogno. È stata una vita sacrificata probabilmente inutilmente. Non saremmo stati un grande pericolo per il capitalismo mondiale. Non volevamo esserlo, non potevamo e le cose sono andate a finire come dovevano andare a finire.